Allora Stefano, è sempre un piacere tornare a Dimiguel Sempre un piacere tornare a Dimiguel Ci sono tante persone, tanta bella energia E poi tante persone soprattutto accomunate dalla passione per lo sport Ecco, cos'è per te lo sport? Ma per me lo sport diciamo che è un po' una droga Nel senso che comunque quando non mi alleno Poi mi rendo conto di quante poche endorfine produco E mi si abbassa l'umore quasi Quindi io diciamo che mi alleno principalmente proprio per star bene anche psicologicamente C'è uno sport che ti piace praticare oltre alla danza? Il pugilato, tanto Sei amatissimo, è bello avere tanto seguito Ma guarda, io cerco ogni volta, sono in nebbito con loro Perché mi danno talmente tanto affetto che a volte è difficile poter ricambiare Se non con la disponibilità Ed è un grande privilegio C'è qualcosa che ti colpisce ogni anno di Dimiguel Ma sì, mi colpisce anche l'età delle persone Perché prima diciamo che lo sport era considerato più una cosa da giovani Adesso con l'avvento di tante nuove tecniche di allenamento E di nuovi macchinari, attrezzi Vedo persone molto più grandi ma anche ancora più piccoli Quindi diciamo che si è ampliato un po' l'utenza Ti chiedo un saluto per il pubblico di Rimini Wellness Un saluto a tutti gli amici di Rimini Wellness Grazie 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 Grazie